Ben trovati cari amici, siamo giunti alla terza puntata di questo viaggio in Tunisia. Come di consueto, rivediamo brevemente la puntata precedente, come è andata e cosa ho fatto e dove sono andato. Ma prima, le perrucazioni non devono mancare, vista la situazione circostante, è meglio premonirsi. Ogni mattina, ci si misura la febbre. 36 e 13. Sembra proprio che stia godendo di buona salute per ora, o almeno si spera. E quindi posso dire che possiamo vedere brevemente l'anticipazione della puntata precedente e poi viaggeremo verso Cairo One. Nella seconda puntata abbiamo visitato luoghi davvero affascinanti, Tuburbo, Mayus, Doga e il Kef. Poi il viaggio, come detto, si è dovuto interrompere bruscamente per la pandemia. Cinque mesi di riposo forzato, ma ora si riprende. Ecco la terza puntata di World Panda Expedition, che ci porta a visitare Tac Rona. Un piccolo, meraviglioso villaggio, percorribile soltanto a piedi, che negli anni ha conosciuto una forte emigrazione, tanto che ad oggi qui vivono solo tre famiglie. E qui facciamo un incontro davvero speciale. Aida, la voce di questo piccolo paese, che da Tunisi si è trasferita in questo luogo lontano dai clamori della città, per cambiare radicalmente vita. Preparo il mio lavoro di questa settimana per fare la città. Aida, che gestisce una tavola calda con l'emporio, ci racconta la storia della sua famiglia. E la mia nonna è medica. Anche il mio... Medico? Vabbè, medico. Anche il mio nonna era medico a Tunisi. A Tunisi. E lei conosca così il mio gran nonne all'opitale. I nonni medici a Tunisi durante la Seconda Guerra Mondiale. La nonna italiana. E non a caso, nel suo locale, la radio è sintonizzata sulle stazioni radio italiane, dice Aida, per imparare bene la lingua. La guerra è finita. Aida inoltre si ingegna come può realizzando quadri, borse, souvenir, che poi vende nel suo negozio. Allora, io ho fatto questo. A tutti i visitatori turisti apre poi le porte del suo personale museo, dedicato alle arti e tradizioni del suo paese. E tra gli oggetti che vi sono esposti troviamo vari utensili per la lavorazione tessile, in particolare i tappeti. Di questo, peraltro, vedremo quando giungeremo a Cariouan. Abbiamo detto della Seconda Guerra Mondiale. Ecco un frammento di storia che vide protagoniste le truppe italiane, proprio in queste lande. Il 20 aprile 1943, il generale Francesco Laferla, comandante della Trieste, diede ordine di conquistare quel villaggio situato su quel picco roccioso che si ergeva in mezzo alla piana di Enfidavil, occupato dai reparti della Quinta Brigata della Seconda Divisione neozelandese. Si trattava di truppe maori ben armate e le truppe italiane dovettero avvicinarsi alla pianura, esposti dunque al fuoco incrociato che giungeva dall'alto. Con l'aiuto di alcuni alpini paracadutisti comandati dal sergente Maggiore Sanità, si hissarono con delle corde rudimentali lungo le pareti verticali del picco, conquistando poi il villaggio e mettendo in fuga i reparti neozelandesi, che però ritornarono in forze il giorno successivo e ripresero possesso del luogo. Sarà questo l'ultimo combattimento che vide partecipi componenti del reparto folgore in terra africana. I circa 50 sopravvissuti, per la maggior parte feriti, saranno poi internati in campi di prigionia britannici in Egitto. Grazie a tutti!